Il 26 settembre scorso l'assessore alle finanze del comune di Pozzuoli, Teresa Stellato, invitava con una lettera aperta gli evasori del canone di locazione degli alloggi del quartiere di Monte Ruscello a regolarizzare la loro posizione, pena azioni regali che sarebbero potuti giungere fino allo sfratto. L'amministrazione putiolana però, se da un lato invia un ultimatum residenti affinché versino nelle casse comunali quanto dovuto, dall'altro ha stanziato 95 milioni di euro per rendere le condizioni di vita dei cittadini del megacuartiere più adeguate. Il comune di Pozzuoli infatti ha indetto la gara con procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione, penalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche negli alloggi di proprietà comunale a Monte Ruscello. Lavori che si sono resi necessari soprattutto dopo le istanze pervenute e debitamente protocollate all'ufficio comunale dai residenti portatori di handicap, quasi prigionieri fino a questo momento, del loro stesso territorio. Le barriere architettoniche infatti limitano e impediscono la libertà di movimento dei cittadini diversamente abili di Monte Ruscello. L'avvio dei lavori però ha anche un significato sociale. Bisogna infatti garantire, secondo il decreto legge in materia 23689, l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità, ovvero l'idonio uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in cui vivono persone con diverse abilità. Le stanze presentate dai cittadini di Monte Ruscello e l'indizione della gara sono disponibili sul sito del comune di Pozzuoli. Ad oggi purtroppo le barriere architettoniche rappresentano ancora un problema per numerose realtà cittadine ed è per questo che sono sorte nel corso degli anni numerose associazioni, presentatori di stanze di demolizione delle suddette barriere per garantire una migliore vivibilità alle persone con limitata capacità motoria. Un esempio è la Sala Blu di Roma che coordina l'assistenza a persone non deambulanti e non vedenti che transitano per la città contro le barriere architettoniche.